ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio dedicato al testo oggi vedremo come creare un predefinito di animazione personale che potremo riutilizzare quando ci serve perché lo andremo ad aggiungere alla lista di quelli che after effects ci mette a disposizione per cui la prima cosa da fare è creare una cartellina all'interno dei predefiniti testo e quindi andremo ad inserire una nostra cartellina personale all'interno dei preset in questo caso lavoriamo sempre sul discorso del testo per cui ci portiamo sull'esplora risorse considerando che io lavoro su windows e seguiamo questo percorso quindi dal questo pc andiamo sul disco locale c ci portiamo su programmi adobe after effects 2020 support files e da questa lista andiamo direttamente nella cartella dei preset che vediamo qua una volta aperta noterete che le cartelle sono esattamente le stesse che vediamo nella nostra palette degli effetti predefiniti per cui entriamo all'interno di text dove abbiamo le varie categorie che abbiamo conosciuto nella lezione precedente e ora qui tasto destro nuovo cartella e la andiamo a chiamare kripton personali testo e diamo ok bene fatto questo passaggio torniamo direttamente su after effects per andare a creare la nostra animazione che andremo a salvare in questa composizione ho già creato un testo su uno sfondo con un gradiente e andiamo a creare la nostra animazione quindi apriamo il nostro livello testo andiamo a creare subito un animazione in entrata per cui andiamo subito sulle proprietà di trasformazione e andiamo ad accendere la scala e diminuiamo la dimensione del nostro testo più o meno così e accendiamo anche l'opacità e vogliamo che all'inizio sia praticamente allo 0 per cento poi ci portiamo a quattro secondi e qua portiamo l'opacità al cento per cento e andiamo ad aumentare la scala portandola circa un 70 per cento ora che abbiamo creato questa interpolazione con queste due proprietà vorrei fare in modo che il mio testo non appaia questa maniera graduale tramite la proprietà di opacità per cui vado a fissare un altro fotogramma a poco più di un secondo con il valore di opacità al cento quindi semplicemente qui vado a riportare il valore a 100 fissando un nuovo fotogramma ora prendo tutti i nostri keyframe tasto f9 regolazione automatica e se mandiamo in riproduzione abbiamo creato la nostra animazione che entra in maniera molto morbida sul nostro monitor andiamo a creare qualcosa di più interessante per cui potremmo andare a inserire un'altra animazione durante queste due e lo facciamo utilizzando una delle proprietà del menu animatore quindi a fianco del contenitore testo ci portiamo su anima e siccome che voglio andare a creare un'animazione sulla spaziatura in modo da creare una distanza tra i singoli caratteri vado a selezionare l'opzione spaziatura che si sarà andata ad aggiungere all'interno del contenitore testo e lo vediamo qui animatore 1 e direi che potremmo andarlo anche a rinominare per sapere che cosa abbiamo inserito per cui tasto invio e scriviamo spaziatura bene ora ci portiamo all'ultimo keyframe dove abbiamo la dimensione definitiva del nostro testo e qua andiamo a modificare la quantità di spaziatura da questo parametro quindi la prendo e la vado ad allargare più o meno la porto a un 30% diciamo che così può andare bene accendo l'orologio e ora mi riporto al tempo 0 e riporto la spaziatura a 0 applico una regolazione automatica anche a questi due fotogrammi con l'f9 andiamo in riproduzione abbiamo il nostro testo in entrata man mano che diventa visibile e si ingrandisce si allarga anche leggermente da un carattere all'altro bene ora che abbiamo creato questa animazione in entrata andiamone a creare una in uscita e abbiamo visto dalla lezione precedente che possiamo farlo utilizzando anche dei predefiniti di animazione quindi possiamo entrare su text e dalla lezione precedente se vi ricordate abbiamo provato l'effetto evaporazione che era davvero molto interessante per cui senza aprire bridge o andare direttamente all'interno delle cartelle per andare a pescare esattamente quell'effetto se ci ricordiamo perfettamente il nome andiamo sulla barra della ricerca degli effetti predefiniti e scriviamo che evaporazione e vedete che ce lo va a tirare fuori che fa parte della categoria della sfocatura ora prima di inserirlo mi devo assicurare di dove si trovi la linea temporale perché nel momento che lo andrò a inserire la sua animazione comincerà dal punto in cui si trova la mia linea del tempo quindi diciamo che non voglio che questa animazione di evaporazione comincia esattamente quando il testo è finito ma che cominci un po prima per cui sposto la linea del tempo anticipandola leggermente dalla fine delle animazioni che abbiamo creato prendo il mio effetto e lo trascino sul testo e vedete che siamo andati a inserire il nostro evaporate animator chiamato così dall'autore di questo effetto quindi mando in riproduzione abbiamo il nostro testo in entrata e il nostro testo in uscita ecco vediamo che qui ora sono rimaste queste lettere diciamo in sospeso quindi andiamo a modificare l'effetto perché probabilmente nel suo originale la durata era differente quindi entriamo all'interno di evaporate animator entriamo nel range selector e andiamo a modificare la proprietà di scostamento sull'ultimo keyframe quindi mi porto a tempo fotogramma chiave e qui vado ad allungare il valore di scostamento e lo portiamo fuori così bene andiamo a riproduzione e ora avremo il nostro testo che appare si allarga e poi evapora benissimo abbiamo creato la nostra animazione che però adesso vogliamo salvare per poterla riutilizzare anche su altri testi per cui la procedura corretta da fare sarebbe quella di andare a selezionare semplicemente tutti i fotogrammi che vedete nella timeline vi conviene andare ad aprire anche la proprietà di trasformazione quindi andiamo a selezionare tutti i nostri fotogrammi delle nostre animazioni e una volta fatto questo ci portiamo nella barra dei menu di after effects su animazione aprendo questa finestra scegliamo la prima opzione che è salva predefinito di animazione facciamo un click ci si aprirà la nostra finestra dell'esplora risorse e ora dovremo andare a salvare questo effetto questo nostro preset personale nella cartellina krypton predefiniti che abbiamo creato all'inizio della lezione per cui ancora ci portiamo su questo pc disco locale ci portiamo su programmi adobe after effects 2020 support file andiamo nella cartella preset testo e qui abbiamo krypton personali testo facciamo un doppio clic e prima di andare a salvare l'andiamo a rinominare il mio consiglio è quello di andare a rinominare questo effetto in modo che ci faccia capire che cosa c'è dentro quindi io qui andrei a scrivere semplicemente scala più opacità più spaziatura più evaporazione e andiamo a mettere anche il numero 1 a fianco dopo vi spiego il perché a questo punto non ci resta che salvare il nostro predefinito quindi clicchiamo su salva nel caso in cui vi dovesse apparire questa finestra che vi comunica che non avete le autorizzazioni necessarie per salvare questo file in questo percorso e qui vi consiglia di salvare i dati nella cartella utente quindi per ovviare questo problema se potete attivare le vostre autorizzazioni salvate direttamente nella cartella oppure potete salvarla nella cartella utente o in qualsiasi altra per cui vi faccio vedere come fare io quindi clicco su no e vado a salvarla nella cartella del progetto su cui sto lavorando quindi la lezione 79 quindi qui la vado a salvare after effects mi comunica con questo pop up di avvertenza che sto salvando questo predefinito fuori dal percorso dei preset per cui questo effetto non sarà disponibile ma per il momento clicchiamo su ok e ora andiamo a spostare manualmente il nostro effetto nella cartella quindi andiamo ad aprire le nostre finestre dell'esplora risorse quindi la nostra lezione 79 dove abbiamo il nostro effetto salvato andiamo ad aprire l'altra finestra dove abbiamo il nostro percorso che ci porta all'interno dei predefiniti testo e ora prendiamo il nostro effetto lo trasciniamo su krypton personali e andiamo a cliccare sul pulsante continuo in questo modo gli daremo le autorizzazioni da amministratore e ora il nostro effetto si sarà salvato correttamente all'interno dei predefiniti testo riduciamo le nostre finestre ci riportiamo su after effects e ora se ci portiamo nella paletta effetti e predefiniti e andiamo a cliccare sul piccolo menu laterale scegliamo aggiorno elenco e se ora entriamo all'interno dei predefiniti di animazione dentro i preset nella cartella testo avremo la nostra krypton personali testo che contiene il nostro effetto ora perché sono andato a inserire il numero 1 a questo effetto perché vi ho fatto vedere che il metodo più corretto è quello di selezionare tutti i fotogrammi delle proprietà animate e salvare ma nel caso in cui doveste andare a salvare direttamente i contenitori che contengono tutte le proprietà ovviamente non salveremo solo le proprietà che contengono le animazioni ma nel caso del testo andremo a salvare anche il testo sorgente le opzioni tracciato e tutta un'altra serie di opzioni che andranno a determinare il nostro effetto copiando esattamente il testo come in originale quindi facciamo subito un esempio andiamo a chiudere i nostri due contenitori selezioniamo tutto il contenitore testo e quello di trasformazione ci portiamo su animazione salva predefinito animazione lo andiamo a salvare velocemente sempre nella lezione 79 e questa volta lo chiamiamo con il numero 2 stesso effetto ma con una modalità differente clicchiamo su salva andiamo a riaprire le nostre due finestre prendiamo anche questo effetto numero 2 e lo portiamo dentro krypton personali testo clicchiamo su continua per confermare le autorizzazioni riduciamo nuovamente le nostre finestre ci portiamo nel menu della palette e e aggiorniamo il nostro elenco andiamo a vedere se il nostro preset è stato inserito ed ecco che all'interno di krypton abbiamo i nostri due effetti bene vediamoli all'opera quindi andiamo a disattivare il nostro testo originale che vi ricordate riporta esattamente la scritta e quindi andiamo a salvare un preset di animazione testo creato con un font Montserrat Lite adesso lo disattiviamo prendiamo lo strumento testo e scriviamo predefiniti personali andiamo ad allineare al centro grazie alla paletta allinea magari riduciamola un pochino perché la vedo un po' grande questa scritta e gli andiamo a cambiare il font quindi entriamo su carattere andiamo a prendere vediamo un font davvero il mustardo che è davvero orribile quindi lo andiamo a riscrivere predefiniti personali perfetto ora ci portiamo al tempo zero ci assicuriamo che l'anchor point del testo si trovi al centro nel caso non fosse così potete utilizzare lo strumento sposta punto di ancoraggio oppure la scorciatoia ctrl alt più om e lo andrete a riportare esattamente al centro bene fate attenzione ora selezioniamo il nostro predefiniti personali andiamo all'interno di effetti predefiniti apriamo i preset entriamo nella nostra cartellina e prendiamo il primo il numero uno dove abbiamo copiato solo le proprietà animate lo prendiamo lo portiamo sul nostro testo mandiamo in riproduzione e vedete che il nostro testo con il font mustardo ha mantenuto le sue caratteristiche e subisce l'effetto solo delle animazioni che abbiamo importato bene questo è il modo corretto ma se dovesse andare a inserire invece l'effetto facciamo un ctrl z e torniamo indietro e andiamo a inserire l'effetto 2 dove abbiamo copiato direttamente i contenitori sia del testo che di trasformazione allora se portiamo questo predefinito sul nostro testo al di là che si è spostato se mandiamo in riproduzione apparirà nuovamente il primo preset ovvero il nostro testo originale con la scritta salvare un preset di animazione testo vedete che siamo andati completamente anche a sostituire il nostro contenuto del testo e anche il font è ovvio che se vogliamo possiamo semplicemente fare un doppio clic e andare a cambiare il nostro font bene ragazzi dopo aver visto come salvare i nostri predefiniti per questa lezione è tutto e ci vediamo direttamente al prossimo episodio ciao